Sono 6 gli squalificati della 36esima giornata di Serie A. Un solo calciatore espulso nell'ultimo turno con Roma meno Juventus che ha portato UEA ad essere ammonito, l'americano era presente nell'elenco dei diffidati e per questo motivo salterà il prossimo turno di campionato. L'unico rosso della giornata è stato inflitto a Gaetano del Cagliari nel primo tempo della sfida contro il Lecce, il match dell'Unipoldomus ha portato con sé altre due squalifiche. Pesanti i gialli ad augello e piccoli, entrambi salteranno il prossimo turno di campionato. Tra i calciatori diffidati che entrano di diritto negli squalificati della 36esima giornata di Serie A, ci sono anche altri due calciatori, il centrocampista del Frosinone Barrenechea e quello del Verona Foloruncio. Un campionato che torna già in questa settimana con il 36esimo turno. Uno snodo cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League e alle altre coppe europee oltre alla lotta salvezza quando mancano tre giornate al termine della Serie A.